E allora, migliore in campo secondo voi tra Onana e Darmian? Ma se poteste scegliere chi vorreste incontrare ai quarti? Allora, Benfica? Dopo la qualificazione ai quarti, riconfermiamo Inzaghi oppure no? Sì, sì, ormai andiamo, poi vediamo, o torna moririno? Ieri siete stati allo stadio? Sì, eravamo in 90 minuti, qualcuno non per 90 minuti, ma per i problemi dei rientrati. Lei è entrato quindi dopo allo stadio? È entrato al quarantesimo agli altri minuti. Al quarantesimo? Sì, dopo aver litigato con la polizia e con gli spiù. Tornando alla partita, tornando alla partita è una qualificazione. Il grosso impegno della squadra, partichiamo ancora un po', partichiamo ancora un po' nella ripartenza, però l'impegno c'è stato, questo era quello che si chiedeva ai ragazzi. Il cuore dice Milano, la testa? Perché li battiamo, la testa dice Chelsea. Perché? Perché il cuore può avere legge, quindi non termico. Quindi preferisco i Chelsea, ma io giocherei sempre contro lui, io giocherei sempre, ho bisogno di essere più forte.